Venerdì 8 ottobre 2021, un cordale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dai canali YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in Via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Gazzettino di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Cominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita alla provincia di Belluno. Cinema, stadi, sci, così si riapre. Il governo accelera, teatri pieni al 100%, impianti sportivi all'aperto al 75%, discoteche ok ma al 50%. Nuove norme in vigore da lunedì per cabinovie e funivie, tempi più lunghi, ipotesi 80% di capienza all'approfondimento. Lo troveremo a pagina 5. Reddito di cittadinanza anche a milionari ed escort con Maserati. Treviso trovati 116 furbetti, tra di loro un ricco giocatore di poker e una prostituta d'alto bordo. L'inchiesta a Bibione in 8 su 9 lasciano il carcere, non c'è mafia. A Bibione non c'è mafia, il Tribunale del Riesame smonta le accuse della max inchiesta sul litorale del Veneto orientale. Scacerati 8 accusati su 9. Foto di copertina, tamponi in farmacia, tutto esaurito, pieni fino a Natale, l'allarme, troppe prenotazioni. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione del Gazzettino di Belluno, nuove regole anti-Covid a rischio, sagre e fiere. L'approfondimento lo troveremo a firma di Piol a pagina 2. Adentriamoci quindi all'interno dell'edizione nazionale, breve panoramica riferita alle notizie, Green Pass, sostegno di Zai alle imprese, il governo li ascolti, il presidente della regione, si valutino i test salivari, l'estensione della validità. Il Veneto si conferma in zona bianca, vaccinazioni raggiunto l'83%. Terza dose è anti-influenzale, programmato un incontro con i medici di famiglie. E lo avete sentito dal titolo in prima pagina, farmacie, tutto esaurito, non c'è posto fino a Natale, Federfarmanovax aggressivi chiedono i test all'alba e minacciano denunce per problemi al naso causati dall'esame. I timori delle aziende, condivisioni per l'allarme del presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, sono circa 400.000 lavoratori non vaccinati. I timori quindi per la richiesta obbligatoria del Green Pass a partire dalla prossima settimana. Luca Mora di Padova, una privacy meno rigida e il pass duri più a lungo. Luca Visentine, treviso, si potrebbe bloccare di colpo la produzione. Luciano Mazzair, treviso, regole giuste ma scritte in modo borbonico. Le misure anti-Covid, cinema e teatri pieni, sia le discoteche al 50% a merito del Green Pass. Il governo decide di superare le indicazioni del CTS, sanzioni dure a chi viola le norme, aumento di capienza per stade 75% e sporta il chiuso 60%. Novità in vigore dall'11 di ottobre. Politica nazionale, incontro Draghi Salvini, ma sul fisco non si cambia, Matteo Ricucce c'è lealtà. Un'ora di colloquio a Palazzo Chigi, il Premier, non aumenteremo le tasse, in mattinata la provocazione, voglio un impegno scritto, letta, teatrino, stancante. Le amministrative, dopo la Calabria, la Sicilia e le elezioni, noi ci saremmo. L'intervista a Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Reduce dal buon risultato al sud, il sindaco Fucsia guarda al voto della prossima primavera. Via la campagna di tesseramento, poi casa per casa negli 8.000 comuni. Milionarie con Maserati, il fatto accaduto in Veneto, Treviso in 116 nel mirino della finanza, sussidi non dovuti per oltre 700.000 euro, dai giocatori d'azzardo online alla Escort Dominicana con MaxiSuv da 80.000 euro. 2 milioni di euro che l'Inps deve recuperare dopo le ultime operazioni, 25 giocatori che avevano vinto grosse somme e godevano del bonus, 3,7 milioni di italiani con il reddito di cittadinanza italiana. Notizia quindi che ci porta nella nostra regione. Friuli, Bibione, non è mafia, scusate Venezia, Veneto, 8 su 9 scarcerati. La guerra del mercato, il riesame, demolisce l'impianto accusatorio ai domiciliari, solo Pietro D'Antonio, non estorsione ma violenza privata. L'unico che resta in cielo non aveva fatto ricorso e Morsanuto lascia la guida della Confcommercio. Questa è l'operazione, 9 gli arrestati con l'accusa di estorsione aggravata dai metodi mafiosi, 8 le persone che sono state scarcerate dal Tribunale del riesame di Treviso. E adesso passiamo all'edizione del Gazzettino di Belluno, adentriamoci immediatamente al suo interno con pagina 2, eventi e fiere a rischio i sindaci dal prefetto. Spiegate ai primi cittadini tutte le regole sulla sicurezza e anticontagio, gli amministratori che organizza a poca consapevolezza dei rischi penali. A Santo Stefano, cancellata l'edizione 765, Melighetti servirebbe troppo personale. E così si cambia musica, lezioni solo con il certificato. Anche per entrare nelle scuole di musica serve il Green Pass, non solo per i docenti ma la norma varata dal governo. Alcuni mesi fa lo impone anche per gli allievi al di sopra dei 12 anni. Lo prevede appunto un decreto legge dello scorso mese di agosto a cui tutti e tutte le scuole di questo tipo si sono adeguate, ovviamente anche in provincia di Belluno. Doppio pass per sciare, funivie verso l'aumento della capienza all'80%, apertura della stagione su Peschiri accende il 27 novembre. Tecnologia per integrare certificato verde e ticket per risalire. In ballo anche la decisione di togliere i limiti agli accessi in zone bianche e zone gialle. Approfondimento in merito alla Cicci, gara a Cicci deserta. Al Mise chiede la relazione, il dubbio del Ministero, perché non si è fatto avanti nessuno? Il commissario proponga un piano con le cose da fare con urgenza. E una buona notizia che troviamo in questa pagina del Gazzettino di Belluno. La tiroide operata con tecnica non invisiva, recupero veloce. Operazioni alla tiroide senza segni e con ripresa più veloce sono in aumento i casi di tumore, ma al San Martino di Belluno si compiono grandi passi in avanti. Dallo scorso giugno, nell'unità operativa complessa di Ottorino-Langoiatria dell'ospedale del Capoluogo ha infatti preso avvio una nuova metodica per l'asportazione della tiroide con tecnica mini-invasiva assistita da ottiche ad alta definizione, chiamate MIVAT. Mense tornano gli assaggiatori, mamma e papà che si presentano a sorpresa per gustare in anticipo i pranzi per gli studenti. Il consigliere Nicolini ne parla con il sindaco e promette di portare la questione in commissione. Fatto che riguarda il capoluogo bellunese Roccon, consigliere di minoranza, la ditta ha vinto una gara costosa per il comune, è opportuno che i parametri siano rispettati. Le passate esperienze hanno dato buoni risultati, c'erano segnalazioni molto puntuali. Passiamo a Feltre. A Natale torna al mercatino, il comune ora apra i privati. Avviata la gara per trovare chi gestirà bancarelle, luminarie e momenti di festa al municipio. Metterà a disposizione strutture come le casette per gli stand. E sempre da Feltre, notizia di spalle, piazza della Lana ha approvato il piano di trasformazione. La Giunta ha dato il via alle modifiche urbanistiche dell'area. Pedavena, alberificio Castello, investe nel magazzino automatizzato. Il Consiglio Comunale ieri ha approvato il progetto del capannone innovativo. Costo dell'intera operazione, 4 milioni di euro, servirà per stoccare i fusti. Lamoni, il trasporto scolastico con mezzo i dolomiti bus, il pullman serviranno una serie di frazioni dislocate sull'alto piano. E adesso a Longarone e Vaillont. Domani l'anniversario sono i giorni della memoria. Il sindaco padrina andrà a Roncade per il gemellaggio nato dal calcio, messe e cerimonie e poi alle 22.39 il triste rintocco delle campane. A Gordo la fiera delle bestiame ritorna dopo lo stop. Domani sul Broil la rassegna dedicata al mondo agricolo. E ancora Cortina d'Ampezzo, processione verso ospitale, un ritorno alla normalità. La cerimonia religiosa era stata fermata dal Covid per tre edizioni. E sempre da Cortina, ambientalisti in marcia contro le grandi opere, la passeggiata sulla pesta da Bob e altre strutture. Fatto di cronaca, Bressanone, Sperona, l'auto dei calabinieri è arrestato. Un ventenne di canale d'Agordo tra ieri e i mercoledì ha seminato il panico lungo le strade dell'Alto Adege su due auto rubate, dopo essere stato fermato per il furto di una macchina in un distributore, ne ha preso un'altra e se ne è e si è dato alla fuga. In due occasioni differenti è stato trovato dai militari in possesso di alcune dosi di Aschis. Passiamo allo sport. Con la DRL ci divertiremo. Tra abbonamenti e i biglietti sono già stati venduti un centinaio di posti per l'esordio di domenica. Il presidente sponsor Darol dà la presentazione. Altro che salvezza, puntiamo alla metà classifica. Ancora sport, hockey, reazione a Merano e Cortina rinasce. Solo gol italiani nella netta affermazione che interrompe la striscia negativa di quattro sconfitti di fila. A segno De Zanna, i fratelli Zanatta, Ricchi, Lacedelli e Adami. Questo risultato finale 0-5 tra Merano-Pipner e Afro-Cortina. Per il conto riguarda invece il calcio femminile, Nicole Dacanal rotto il crociato, niente europei. Ultima notizia che troviamo in questa edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo all'agenda, pagina 15. Oggi alle 17.30 si apre a Belluno la 25esima edizione della rassegna dedicata alla cultura di montagna oltre alle vette alla riscoperta della Crepadona. È davvero tutto per questa edizione di Edicola a Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20 domani mattina a Luna, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio BM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Grazie a tutti.